Generale, lei esegue un ordine. Io però vorrei dirle che non le hanno neanche spiegato bene, e questo mi spiace molto, per lei soprattutto, perché non le hanno spiegato cosa sta eseguendo. Non gliel'hanno spiegato bene. Noi ci proviamo, con il rispetto che le dobbiamo, a spiegarglielo, ma prima vogliamo vedere dove lei ha toppato, ha detto una cosa che probabilmente le hanno spiegato male. Vogliamo vedere il gene figliuolo dove è andato a parlare. Vediamolo così lo capisci. Vediamo cosa ha detto. L'ideale è vaccinare il più possibile, per cui noi andremo avanti. È ovvio che dobbiamo convincere e informare bene quelli che ancora adesso sono indecisi, e che io penso ci sia una fetta di persone che può essere convinta. Ma lei se lo spiega da dove arriva questo scetticismo? Perché? Io credo in parte sia la paura di una paura perché dice chissà cosa mi iniettano. E che ci iniettano? Poi altro non è che un po' di virus. Un po' di virus? Sappiamo che invece questa è la vita, perché contro i virus si combatte da sempre. Ci iniettano un po' di virus. E noi sappiamo che questa è la vita. Vogliamo risentire cosa ha detto per cortesia? Perché forse ci ha sfuggito che il generale ha detto dobbiamo informare bene. Che cos'è il liquido? È un po' di virus. Generale, lei non ha informato bene. Lei ha detto agli italiani una falsità. Risentiamo per favore. L'ideale è vaccinare il più possibile, per cui noi andremo avanti. È ovvio che dobbiamo convincere e informare bene quelli che ancora adesso sono indecisi. Io penso ci sia una fetta di persone che può essere convinta. Ma lei se lo spiega da dove arriva questo scetticismo, questa paura? Cioè perché? Io credo in parte sia la paura di una paura perché dice chissà cosa mi iniettano. Che gli iniettano? Poi altro non è che un po' di virus. E noi sappiamo che invece questa è la vita. Perché contro i virus si combatte da sempre. Io rimango senza parole. Onestamente, generale, veramente lei mi toglie le parole dalla bocca perché io non... Che le dico? Le hanno spiegato una cosa che non è così. Lei non sta iniettando un po' di virus, cioè la vita con la quale combattiamo da sempre. Che poi non ci combattiamo, ci conviviamo, generale. Con i virus noi conviviamo da sempre. E i virus, se li sappiamo prendere, non ci uccidono. Ed è vero, i vaccini, quelli buoni, sono quelli che prendono il virus, cercano di modificarlo in un certo modo, dopo tanti anni di studio, ce lo iniettano in un certo modo, io non sono un tecnico però, ci iniettano il virus in modo che non ci faccia troppo del male, il nostro sistema immunitario reagisce, ci crea gli anticorpi e la questione si risolve col morbillo, è successo per la poliomolite, è successo per il morbillo, la varicea, tutte queste cose qua. È vero, questo è quello che succede con i vaccini veri. Questo però è un liquido di nuova generazione. Non ci iniettate un po' di virus per scatenare i nostri anticorpi, ci iniettate un messaggero RNA, un liquido mRNA, fa un'altra cosa generale. Non sappiamo cosa farà nel futuro. Gliel'hanno spiegato? Adesso noi glielo abbiamo detto. E noi non diciamo fake news.